Il Circo Paolo Orfei da continuo sold out, delle famiglie Martino e dell'Acqua, rappresenta la novità assoluta nel panorama circense, con attrazioni presenti soltanto nel complesso circense, con artisti internazionali premiati al Festival di Monte Carlo. Il complesso circense dagli eleganti toni azzurri e rossi si trova a Porto Viro, Viadosso, zona Lidl. In programma i seguenti spettacoli, venerdì 1 settembre, ore 21 e 15. Tutti i giorni, ore 18 e ore 21 e 15. Martedì e mercoledì. Riposo per riprese televisive. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 347 8 988 192 o il 379 280 2480 e visitare la pagina Facebook, Circo Royal oppure il sito www.royalcircus.net